Zootropolis, una ridente città in cui gli animali di ogni razza, che siano prede o predatori, vivono insieme in pace e armonia. Sono Judy, la nuova vicina. Sì, noi urliamo. E non ci scusiamo con i vicini. Allora Leo, questa praticamente è la scena iniziale quando noi lo vediamo. Il mio personaggio è Mr. Big. Non è altro in quello che hanno creato che il divertissement, il gioco, di fare questo personaggio come Don Vito Gorleone del padrino. Un padrino, è inutile che te lo dico. Maestro in questo. No, senza maestro. Ci proviamo. No, no, maestro. La fantasia straordinaria di chi è che ha creato Zootropolis è proprio quella di dare fantasia ad ogni personaggio, ad ogni situazione. Io mi fidavo di te, Nicky. Tu sei stato accolto in casa mia. Hai mangiato la mia tavola. E la nonna ti ha preparato i cannoli. e quindi ripetendo, diciamo, vocalmente questo gioco come ci si prepara. Ci si prepara guardando e poi facendo. E tu come ricambi la mia generosità con un tappeto fatto con le chiappe di una puzzola. Un tappeto di chiappe di puzzola. Mi hai mancato di rispetto. Hai mancato di rispetto a me nonna. Quello è Mr. Big. Fai silenzio, fai silenzio. Oh, freddateli. Dal 18 febbraio la Disney mi aspetta al cinema con Zootropolis. Papino! Ma, che avevi promesso? Niente tuffi nel ghiaccio al mio matrimonio. Ma devo, piccola, papino e coscietto. Ho, 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 ho.